Prova di riqualifica alle corse con l'uno Ray of Moon del signor Grosetti Luca, allenato e guidato da Elio Parenti con il due Renta Desi del signor Campanelli Urbano, allenata e guidata da Mauro Baroncini. Tempo massimo per la qualifica 2.05.6 per un racquaglio al chilometro di 1.18.5 o migliore, macchina all'attacco della piegata della scuderia, Ray of Moon di dentro, Renta Desi, 2 di Telino, va ad avviarsi a contatto del numero 4 dietro l'autostart. 200 metri al punto di partenza, 18.05 o migliore, il raguaglio per ottenere il placet e proseguire la carriera agonistica a tempo massimo, 2 minuti, 5 secondi e 6 decimi. Renta Desi, subito all'avanguardia, Renta Desi, procede a Ray of Moon. La messa sulla velocità, Mauro Baroncini con Renta Desi, portacolori di Urbano Campanelli, i duecento iniziali in quattordici e tre, resta più discosto, Ray of Moon. Renta Desi al compagamento della piegata, esce dalla curva, tocca i quattrocento iniziali in ventinove e quattro. Renta Desi, avanti a Ray of Moon. Tempo massimo, 2.05 e 6. Renta Desi completa i seicento in quarantaquattro e sette. Lettamente avanti a Ray of Moon. Seconda e penultima piegata. Renta Desi su Ray of Moon. Metà corsa, completata in 1.009, 31.05 il secondo parziale. Continua a fare andatura brillante a Renta Desi, avanti a Ray of Moon. Completamento del giro in 1.16 e tra Renta Desi e Ray of Moon, sempre nell'ordine. Completato in retinio, mezzo giro al termine della riqualifica. Renta Desi sempre costantemente bene avanti. 31.3 e quarto, 1.31 letti per i tre quarti di miglio. Siamo alla media di 16.0. Scherzo. Completamento della piegata, ingresso in dirittura. Renta Desi completa i 1.400 in 1.46 e 4. Continua all'avanguardia Renta Desi su Ray of Moon. Gli ultimi metri per la giumenta di Baroncini, che completa il miglio in 2.02 e 6. alla media al chilometro di 1.16 e 6. Quarto finale in 31.5. Grazie.